Silicon Valley è un posto unico al mondo, è quasi irripetibile in questa convergenza di tutta una serie di situazioni, di gente, di infrastrutture che permette questo fenomeno dell'innovazione e dell'accelerazione di queste tecnologie come in nessun'altra parte del mondo. Però chiaramente ha i suoi vantaggi e svantaggi. Siccome tutti vogliono arrivare qua il costo della vita è molto alto la tensione, lo stress in questa vita competitiva è alto, poi anche se guardi le famiglie e gli studenti si trovano studenti di altissima qualità da tutto il mondo che competono anche loro a scuola, per questi pochi ragazzini sono sotto pressione. Quando vengono fuori bene, incredibile, però ci sono anche situazioni meno facile. Non è tutto rose e fiori, c'è una dimensione di grandezza e c'è una dimensione quando ci sono tanti soldi in giro di corruzione. Per cui, come in tutto il mondo, c'è tanto da capire, conoscere, affrontare, digerire e cercare di avere la saggezza per percorrere questa esperienza nella maniera più positiva. Grazie. 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 Grazie.